Andiamo a Torino adesso dove giovedì apre il Salone del Libro ed è polemica per la presenza di una casa editrice vicino a Casa Pound, ci dice di più Walter Vecellio. Non è di Volterma della sua biografa Evelyn Hall, ma diamola per buona. Non sono d'accordo con te, ma darei la vita perché tu possa dirlo. Aurea, regola di tolleranza in questi giorni messa in discussione al Salone del Libro di Torino. Non che ci si debba immolare, però è scoppiata una polemica per la presenza di una casa editrice vicina a Casa Pound, il cui direttore non ha remora a definirsi fascista. Casa editrice balzata alle cronache per un libro intervista al ministro dell'Interno Salvini. Polemica al calor bianco. Il consulente editoriale del Salone, Christian Raimo, si dimette per quella non gradita presenza. E' un nutrito gruppo di autori, tra cui lo storico Carlo Ginzburg e il disegnatore Zero Calcare, diserteranno l'evento. Altri, come la scrittrice Michela Murgia, ci saranno, proprio per meglio marcare un preciso impegno antifascista. Raimo è anche autore di un post poi rimosso che contiene un elenco di giornalisti e scrittori, tra gli altri Alessandro Giulie, Francesco Borgonovo, Pietrangelo Buttafuoco, accusati di alimentare idee tra il neofascismo e il sovranismo. Giulie la prende con filosofia. Trovo soprattutto che chi ostracizza i libri prima o poi finisce per bruciarli nelle piazze, come nelle pagine più buie della storia europea, perlomeno. Quanto a Voltaire, chissà, forse avrebbe raccomandato silenzio. La polemica è l'anima della pubblicità.